Se anche tu vuoi conoscere tutto ciò che devi sapere sui pianeti, ti consiglio di seguire questo video. Ciao, io sono Luca e sono uno youtuber e racconto un'astronomia facile per tutti. Quindi iscriviti al canale se vuoi sapere di più di questo mondo. Ma ora partiamo col video vero e proprio e iniziamo col capire che cosa sono questi pianeti. E sono qualsiasi corpo celeste che per prima cosa non deve produrre luce propria e per secondo deve girare attorno a una stella. E sono divisi in due grossi gruppi, quelli terrestri e quelli gioviani. I pianeti per essere definiti tali devono avere delle caratteristiche ben definite e devono avere una densità maggiore di 5 rispetto a quella dell'acqua. Devono avere un'atmosfera più rarefatta rispetto a quelli gassosi. Sono composti principalmente da rocce o materiali comunque ferrosi. Come possiamo vedere Marte ha un colore rosso appunto dato dall'ossido di ferro. Ma devono avere comunque anche minime quantità di gas. Hanno pochi satelliti rispetto a quelli gassosi. Possiamo fare un esempio molto banale. E' un esempio la Terra, Nia 1, la Luna e Giove ne ha 95. E hanno una velocità di rivoluzione molto bassa. I pianeti gioviani hanno delle masse enormi. Basta pensare che Giove è il più grande pianeta del sistema solare. Hanno tanti satelliti e un'alta rotazione. Infatti a causa di essa hanno una forma più schiacciata. Sono composti principalmente da idrogeno, elio, ghiacci, ammoniaco, carbonio e azoto. E la cosa più interessante che sconvolge molti è che pure loro hanno un nucleo. Ed è composto principalmente da materiali pesanti. Ma adesso passiamo al moto dei pianeti. I pianeti hanno in particolare due moti. Il moto di rivoluzione e il moto di rotazione. Quello di rivoluzione indica l'anno. E cioè il giro completo attorno alla propria stella. Invece il moto di rotazione è il giro completo su se stesse e indica il giorno. Inoltre possono avere un moto retrogrado o diretto. Diretto come la Terra. Cioè ha un giro sia nel moto di rotazione che di rivoluzione. In maniera anteoraria. Ovviamente osservando il polo nord celeste. Il polo nord celeste non è altro che il polo nord geografico proiettato sulla sfera celeste. La sfera celeste è una sfera immaginaria dove si mettono, si sono collocati gli astri. Oppure può avere un pianeta o un moto retrogrado. Cioè in senso orario. Ebbene sì, il video per oggi è finito. Ma noi ci vedremo a un prossimo video con nuovissimi argomenti. E quindi iscriviti al canale se non vuoi perdertene. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!